Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Adama Traore, attuale giocatore del Barcellona. Mi avete girato in moltissimi il suo profilo e moltissimi volevate questo video. Allora, chi è Adama Traore? Adama Traore è un ragazzo con una genetica totalmente fuori dal comune e con delle masse muscolari incredibili del mondo calcistico. Penso che sia attualmente l'atleta più ipertrofico del mondo del calcio, senza dubbio. Attualmente. Vediamo poi le sue statistiche. Lui è nato nel 96 a 26 anni, peso 86 kg, altezza 1,78 kg. Quindi stiamo vedendo un atleta di un HP più 8. Adama Traore è letteralmente una bestia. Ha un fisico da giocatore da rugby, non so neanche cosa sta facendo nel campo. Ma questo atleta ha una peculiarità, non solo ha delle masse muscolari molto importanti per essere un calciatore, ma è anche uno dei più veloci. Quindi ha veramente un fisico da 100 metrista, ma quelli proprio cazzuti, con una endurance impressionante. Guardiamo questa intervista per farci ancora due risate. Perché non do le spi, ma non do le spi. Io do le spi, ma sono tutti i nostri spi. Per sicuramente non do le spi, ma non do le spi perché non do le spi. molto veloce, molto veloce. Mi ricordo quando ho iniziato a fare alcuni pescini, quando ero 16, ho tornato alla preseason e il manager ha detto che abbiamo un nuovo giocatore qui? Cosa succede? Cosa hai fatto? Ho detto che ho fatto alcuni esercizi, perché ho fatto alcuni esercizi e ho fatto alcuni esercizi, quindi mi ha detto che hai bisogno di calci, è troppo grande. Quindi Adama dice di non allenarsi neanche con i pesi perché crescerebbe troppo a livello muscolare. Infatti c'è stato un episodio di quando era più giovane dove si è allenato per un periodo con i pesi e è ritornato in prestagione e l'allenatore gli ha detto cosa è successo, non può essere così se è cresciuto troppo. Per farvi capire la genetica che ha questo atleta. Leggo anche nei commenti sotto dei video su Adama di persone che scrivono ma questo qua è fortunato, forse il 5% della popolazione ha questa genetica. 5%, ma state scherzando, qui stiamo vedendo una genetica letteralmente fuori da comune, forse 0,1%. Qua stiamo vedendo un calciatore che potrebbe tranquillamente salire su un palco regionale e vincere la gara da men's physique. E lui stesso dice con un tocca pesi. Ecco, volevo ritornare su questa cosa. Secondo me questa cosa qui non è vera. Lui fa molti, si allena molto in resistenza. Tra l'altro ho visto anche dei video dove si allena con macchinari, ad esempio la calf machine, ma non mi sorprenderebbe che si allena anche con altri macchinari per rinforzare il suo upper body. Ma fa tantissimi allenamenti di resistenza. E lui risponde veramente molto bene a questi allenamenti muscolarmente parlando. Sembra, letteralmente, ragazzi, un giocatore da rugby. Cioè, la differenza tra lui e gli altri calciatori è allucinante. Cosa che ha fatto storcere molto il naso a tantissime persone dove si sono chiesti se questo atleta sia natural o meno. Nel mondo calcistico sono estremamente severi per quanto riguarda il doping. Infatti i test antidoping ne fanno moltissimi. Non solo nel mondo calcistico, ma nella maggior parte degli sport. Loro non sanno quando vengono testati. Infatti, leggiamo un po' qua l'antidoping come funziona. Può essere testato in qualsiasi ora, in qualsiasi posto, anche dopo una partita, anche durante un allenamento o addirittura a casa. Sarai richiesto di fornire un test dell'urina o del sangue e verrai testato più volte durante la stagione. In seguito, se un calciatore decidesse di non farsi testare, qui c'è scritto Do not refuse to take the test as they may lead to four years suspension from football. Quindi, se rifiuti un test, avrai ben quattro anni di sospensione. Io adesso, non penso che Adama sia così folle da mettere a repentaglio la sua carriera calcistica. Possiamo comunque prendere in considerazione il fatto che non sia natural, ragazzi. Qui alzo le mani, non ho certezza al 100%, ovviamente. Tu ti chiederai com'è possibile che non sia natural, se ci stanno tutti questi test. Allora, ragazzi, vorrei sapere che ci stanno molecole, ovvero steroidi, che hanno veramente una durata nel sistema molto bassa. Vi butto lì l'esempio dell'Oxandrolone, ovvero più conosciuto come Nanavar, dove ha un tempo vitale nel nostro sistema che si aggira intorno alle 9-10 ore. Quindi che fai? Prima di andare a dormire? Te butti giovacchia e pastiglia di Nanavar, il giorno dopo risulti natural ai test. Quindi, ecco, questa qua è una cosa da prendere in considerazione. Detto questo, interrompo un momento il video, cosa molto importante. Quando moltissimi di voi vi mandate delle foto, delle storie di atleti o dei influencer, come ad esempio Stavon Panda, mostrano alcune foto, storie dei test del sangue dove risulta natural, prendete in considerazione questa cosa. Esistono tantissime molecole, ragazzi, che hanno una durata di vita molto corta nel nostro sistema, come ad esempio l'Anavar, il Dianapol, le prendi il giorno prima e il giorno dopo risulti natural sul test, ma evidentemente non lo sei. Questi influencer sono veramente dei clown che vogliono far credere alla loro comunità di essere natural, quando in realtà non lo sono. Quindi questa è la verità, ragazzi. Se è natural o meno Adama, secondo me, ragazzi, Adama Traore è natural. Lui ha avuto una trasformazione che comunque dal 2012 al 2021 sono 9 anni, prendo anche in considerazione la sua genetica, perché è una genetica fuori dal comune. Lo possiamo notare dai suoi spanciamenti muscolari e dalle sue inserzioni muscolari. Comunque ho detto, questo ragazzo qui se sale sul regionale e va a fare un men's physique, una gara men's physique, secondo me la vincerebbe a mani basse e non fa neanche bodybuilding. E questa è la cosa più folle. Se lui si mettesse a fare bodybuilding come si deve, non oso immaginare che il fisico può portare fuori, perché questo qua è veramente, ragazzi, come ho detto, è una genetica letteralmente fuori dal comune. Quindi fammi sapere tu cosa ne pensi sull'atleta in questione, sono molto curioso. Se il video ti è piaciuto lascia un like, mi fa sempre molto piacere. Iscriviti al canale e attiva la campanella. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. Vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti. Ciao! Ciao!